E' il sole che trafigge il sole e che ne sai? E' un mondo tutto chiuso in una via, ed un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? E' bravo, tu devi fare... non... E' bravo, tu devi fare... 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 Sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete, ho sete ancora. Dimmi quando, quando, non vai darmi adesso amore, sono stato, perché penso al futuro. Dimmi quando, quando, stiamo altri lì che cercano un sorriso, non nascondere il tuo riso. Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora. Dimmi quando, sì, dimmi quando, tutto il tuo mondo deve desiderci andare via. Dai, ricordi questa strana partia, è il paradiso che non esiste. Dai, ricordi questa strana partia, ho sete ancora, 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 ho sete ancora. Ilα preparato, ho sete ancora, ho sete ancora, ho sete ancora, ho sete ancora. Andrea Gatti Bella Oh,ũi Gabriele Allora, è partito tutto, se posso fare un gioco di parole, è partito tutto per caso La nostra, diciamo, la ragazza che ci segue, diciamo, Rosaria Ha inviato il nostro video, il video di quando, alla Nokia Play per partecipare a questo concorso E poi quando abbiamo avuto la notizia comunque è stata un'emozione unica Anche non ce l'aspettiamo, comunque tra tanti partecipanti è stato veramente, il vincere questo concorso è stato veramente bello Diciamo che all'inizio, almeno io, non è che ci credevo tanto Addirittura vincere il concorso e cantare con i neri per caso era, come ho già detto, qualcosa di impensabile Poi una volta saputo che avevamo davvero vinto quel concorso, a bocca aperta praticamente, meraviglia, stupore Vedevo loro che si comportavano come ci comportiamo noi alle prove, ci hanno messo molto a nostro agio È stato divertente I ragazzi che erano all'opera, diciamo, con loro E grazie a determinati insegnamenti possiamo, diciamo, riempire le canzoni, non so, a differenza di prima È stata un'esperienza magnifica Spero che si possa ripetere Soprattutto l'emulazione dello strumento che mi ha insegnato a fare Ciro L'emulazione della Maracas, ad esempio Che è stata un'esperienza meravigliosa Sono rimasta sorpresissima dalla disponibilità Cioè immaginavo che comunque per mettersi in gioco fino a questo punto fossero molto aperti Ecco, però veramente la disponibilità nel mettersi al piano, insegnarci le voci Veramente bello Straordinari loro È stata una grande emozione Grazie mille Conosci me Conosci me La mia realtà Tu sai che oggi morirei per onestà Per onestà